Io sono una panniaggela, pio. Mi mangia di proprio, voglio dire, di proprio. Io sono una panniaggela, mi mangia di Armignano. Senta, e quali sono le sue passioni, le sue origini? Cosa sappiamo lei è anche un poeta, oltre che è un cantante. Ci parli un po' di lei, ci parli un po' di lei. Io a Midolla una volta c'è scritto un'azzo, la lì che fa, alle tre viene inizio, e si è a Pescani, Rio. A Pio. Io avevo l'azzo anch'io a Midolla, poi dovevo cambiare anche io, avevo la linea, mi prendi internet, un girà, un girà, mi girai i compiuti. A Pio. A Pio. E per dire io, a Pio, io per dire io, a Pio, io per dire io, a Pio, io per vedere la viola, a Pio, perché io sono no, io sono no. Ecco, bene, ma ci dica, per quanto concerne la nuova questione in avanti, e come si può definire una cosa del genere se non si ha la certezza? A Pio. No, a Pio, una volta, per dire io, a Pescani, avete una volta, in Arno e portare vai, si è preso i bairi, io sono si preso una terota. E la fece ai cartocci, c'era, la gente a mangiare, e ne ho so, disse, come te è venuta buona questa terota? Dissi io, per forza, ho preso in Arno, c'è l'acqua torrente, c'è l'acqua buona scorrente, a Pio. A Pio. E ora per dire, io, e c'avevo, era, era, andavo ai bar, ai bar Baugiano, ma, e poi dopo, Pio, c'avevo lasciato i conti, chiodo, e non sono più tornato a bere, è un cicchino. E in che modo, crede, di affrontare il 2018, in che modo, comunque, saranno le aspettative, i correnti, alle bande laterali? No, non ho capito, a mio fondo, non ho capito, no. Io, per dire, ai circolino, c'avevo fatto il tesserino, Pio. Io sempre, io sono stato, Pio, gli ero sempre di Egli, Pio, pronti a fare casino, gli ero uno dei primi, Pio. E, mi ricordo, una volta, una volta, c'era una, una discussione ai bar, io vi dissi, cioè, gli dice, gli andare in grugno, gli dico, capito? Capito, ok. Io sono dei negli, a me, a me, per esempio, se tu mi fai una storia, se mi vem a dirle, o se poi dopo può avere considerazione Andreå, mi fa, mi cazzo, fa un casino, capito? E senta, si può credere in un principio di inizio, ma solamente, se non ci può, se, se questa cosa non fossi, come fosse, come sarebbe? Come sarebbe se non fossi? No, non ho capito, ora mi fai un cazzare, non ho capito nulla, ascolta io ho da fare, ho da andare a Pravo, ho un appuntamento a Borgo Novo o Marrocchino, po' una storia, ho da fare, ho da andare sennò mi va via.